Un artigiano che sfruttava la commissione di lavori di ristrutturazione in diverse abitazioni nella provincia di Vicenza per consumare dei furti di materiali di vario genere. Sette colpi messi a segno da Stefano Girolimetto, artigiano 41enne domiciliato a passo di riva in comune di Dueville, il primo a Rosana nel 2014, poi a Vicenza, Bibione e Dueville, dove veniva chiamato a ristrutturare. Lui ne approfittava per trafugare qualsiasi tipo di bene da materiale edile, sanitari, motosega, d'orologi, monili e borse. Furti che avvenivano approfittando del fatto che i proprietari gli lasciavano le chiavi e solo in seguito si accorgevano di quanto era accaduto. In taluni casi, lui stesso provvedeva a denunciare il furto di oggetti che lui aveva trafugato, pensando così di non venire scoperto. Materiali che poi magari in parte rivendeva dignari proprietari di casi in cui veniva chiamato a ristrutturare o che, addirittura, ha utilizzato per arredare o sistemare casa propria. Accumulatore compulsivo al momento della perquisizione, gli agenti della mobile hanno rivenuto talmente tanto materiale per un valore che va ben oltre i 10.000 euro. Nel corso di una perquisizione siamo riusciti a recuperare orologi, monili in ora d'argento, attrezzi da lavoro, borse di marca e altro materiale che adesso, con calma e pazienza, stiamo restituendo ai legittimi proprietari. Per l'artigiano invece è scattato alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, impedendogli così di girare col suo furgone a caccia di nuove ristrutturazioni.